Buon feragosto, siete su Notizia Non Click qui con me Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Apriamo con una notizia di turismo, un portale per leggere nell'anima della Colombia, un paese sorprendente, caporalato, irregolare, un'impresa su due. Trump e Elon Musk è la fine degli Stati Uniti. A Roma torna il grande jazz sotto le stelle con l'esquilinio festival. Mai ho incontrato una persona così saggia, la dedica commomente di Alberto Angela per il padre Piero. Incendi in Grecia, Mattarella scrive alla presidente greca, Italia vi è vicina a Afghanistan, tre anni fa il ritorno al potere dei talebani. E oggi ricordiamo la morte nel 1936 di Grazia Deledda, scrittice italiana premio Nobel. E sempre oggi, ma nel 1769, nasceva Napoleone Bonaparte. Tanti tanti auguri all'atleta italiano ginnasta Igor Cassina. E chiudiamo con una frase sull'amore di Bukowski. L'amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello su cui si ha bisogno, quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo. Come fai a dire che ami una persona quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più se solo le incontrassi. Il fatto è che non le incontri. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna. Loredana